Sul palco dell'Also, sapete che io ho cominciato con la radio a fine anni 70 e questo gruppo, le canzoni di questo gruppo, i grandi successi di questo gruppo li ho trasmessi alla radio veramente tantissime volte, quindi sogniamo di poterli presentare un giorno in un'occasione così importante come il Festival di Sanremo. È una band che ha venduto oltre 100 milioni di dischi, riempito gli stadi di tutto il mondo e continueranno a farlo e potrei veramente usare ancora mille parole per descrivere la loro grandezza. In questo momento riesco solamente a dirvi di aver coronato appunto il sogno di quando ero ragazzo. Posso dire, signore e signori, in anteprima mondiale con il nuovo singolo Ghosts Again e con una delle più belle canzoni della storia del rock come Personal Jesus a Sanremo 2023.